Oggi è 16 settembre, sto a Via Madonna della Salute e sono le 23 e 5 e ti voglio far notare la strada e come è pericoloso. Guarda qua questa buca e guarda la perdita d'acqua, abbiamo chiamato pure la protezione civile, l'acquedotto Gori e da circa un'ora, come tu puoi notare, che esce acqua. La protezione civile si è attivata a chiamare l'acquedotto Gori. L'acquedotto Gori mi ha risposto detto che stavano impegnati attori del greco e mandavano subito dei colleghi loro per risolvere il problema, però come tu puoi notare, guarda qua, e sono le 11 e 5 di sera del 16 settembre, mi hanno chiamato dei cittadini e guarda come sta. Questa è Via Madonna della Salute e puoi notare anche la strada, vedi qua, senza paletti, guarda qua com'è pericoloso, guarda qua. ti faccio notare, sono le 11 di sera, come puoi notare, questa è Via Madonna della Salute dal numero civico, 16, 14, guarda qua, puoi notare stesso tu. Purtroppo come manutenzione lascia desiderare, caro sindaco. Ecco qua, io sto ancora in attesa, sto aspettando la protezione civile, la protezione civile, avvisato, la Gori, sto ancora aspettando la Gori, come puoi notare, le condizioni della strada. Certamente ti attiverai come hai sempre fatto, affidandoci al tuo buonsenso e noi consiglieri che siamo attivi, ripeto, questi video servono a far capire alla gente che siamo attivi e sia io che altri colleghi consiglieri, ci diamo da fare, chi in un modo, chi in un altro. Però, certamente dobbiamo intervenire. Ti faccio notare, Via Madonna della Salute Puoi notare stesso tu. Più evidente di così Ti sto riprendendo tutto Che puzza Cestino pieno Ma da qua Puoi notare stesso tu. Ti ripeto Siamo a Via Madonna della Salute E vedi tu che condizioni sta la strada Ciao caro sindaco Pagmardo Pagmardo Pagmardo